30 novembre, 2023 l'ultimo del mese, una suggestione veramente invernale. Guardate questo bel prato che ho davanti, ma dove sono? Prima di tutto ve lo dico in provincia di Brescia, la località sacca. Guardate l'emozione di quei alberi nudi, secchi, senza foglie, tipicamente invernali e con le nubi basse che toccano quasi la terra, perché qua c'è un calore intensamente su questa terra, non direi freddo, ma è un aspetto che mi dà una suggestione particolare, guardare quella montagna là, sembra un cammello. Sono qua vicino a Boario, mai stato, mai stato in questa località sacco, dopo Montecchio. Per la prima volta provo l'emozione di uno stato invernale. Sto benissimo, oh, sto benissimo a vedere questo aspetto così con alberi secchi che si elevano verso l'alto, dominando poi quella montagna, come ho detto prima, a una gobba. Ma io questa particolarità non l'ho mai notata. A Boario tutti vogliono andare nelle montagne ben denominate come Livigno, Madesimo, ma io cerco i punti dove l'uomo può anche non arrivare e scoprirli da solo, dando un'emozione a se stesso, in quanto qui quella nebbia bassa, quell'atmosfera qua tipicamente invernale che non fa freddo per niente, la nebbia che da anni non la vedo più, questa bella nebbia. Sono qua dopo Montecchio, vicino al fiume Olio, guardate che bello, ma guardate il paesaggio qua tipicamente invernale. Qui mi adagia la mia personalità in senso di questo campo arato, di questo campo bianco che è la prima neve che è caduta quest'anno. Sono venuto sei chilometri a piedi da Boario, qui nella località che ripeto l'ultima volta, Sacca, dopo un ponte romano di Montecchio, sono arrivato qui da solo. Neanche una persona, ma vedo contatto con la natura. Alberi, chi sono i miei amici, anche gli alberi hanno un'anima, anche gli alberi hanno uno sapore di esistere in questa solitudine, dove prevalgono solamente le mie parole. Parole, ma non spese in vano, ma consapevoli di un esistere esistenziale in questa zona. Aldo, Aldo, Aldo!